in gamba tesa un grandissimo un amico che abbiamo vedo in comune che secondo me è tuo fratello veneto un certo Matteo Strucol di Palp di Sugar Palp grandissimo Matteo ciao grazie figata che ci stai ascoltando Simone Piva e i Viola Velluto sono il rock in Italia e non ce n'è ragazzi sangue sudore lacrime loro cantano la provincia della provincia italiana immensi Matteo Strucol io adesso dovrei riuscire veramente a estrapolare questa cosa perché scritta da lui poi mi ha valore anche perché veramente un grande io e Matteo siamo cioè c'è una stima reciproca ma secondo me vi somigliate anche un pochino visivamente è così tendenzialmente ma anche ne vado fiero di questa cosa qua cioè nel senso che Matteo come scrittura è il mio ego o io sono il suo ego nella scrittura musicale nel senso ci riconosciamo moltissimo a me piace tantissimo quello che lui scrive e come lo fa è un figo ed è uno secondo me che farà veramente strada beh mi viene già da dire che ne sta già facendo e ne ha fatta perché è veramente un grande quello che scrive è fantastico Sugar Palp mi raccomando date un'occhiata grazie a tutti